Qualcuno aveva dei dubbi, ma esposizione ha da essere ed esposizione è. Dopo aver visto persino i sindaci muoversi per Draghi, perché Draghi continui, ecco qua, da Televideorai, martedì 19 luglio, come vedete i secondi passano, non invento niente, siamo sempre all'interno di un mobile, quindi non è una falsificazione. Letta da Draghi, sconcerto del centrodestra. Sconcerto è stato espresso perché il presidente Mario Draghi ha ricevuto il segretario del PD e non i leader degli altri partiti della maggioranza. Lo riferiscono fonti del centrodestra, di governo, Giunita-Villa Grande, per una colazione fra i leader di Fratelli di Forza Italia, scusate, Berlusconi, e quello della Lega, Salvini. Questo dopo che, peraltro, era stata chiesta una verifica politica, sottolinano ancora le fonti. E il Deep State, il Permanent State, che tra l'altro è anche piuttosto trasversale, le tenta tutte, sono ore convulse, domani sapremo qualcosa di più. E' però inquietante questo incontro del segretario del PD Letta, che è stato ricevuto da Draghi, al contrario degli altri partiti della maggioranza. Vi ringrazio per l'attenzione, mi invito a iscrivervi al mio canale, se mettete il like, ciò aumenta le visualizzazioni. il canale Telegram Giorgio Riccardin, il profilo su Sharktube Giorgio Riccardin e, naturalmente, il canale storico su YouTube. Grazie e alla prossima videopillolina. Grazie a tutti.